Il rapporto quattro sesti fissa le quattro dimensioni della realtà come un flusso messo in relazione alle sei componenti del sistema ostrogonale, che sono i sei versi positivo e negativo posseduti dalla terna cartesiana. Grazie. Pertanto il processo opposto alla potenza dieci alla sei, che moltiplica, fa interagire tra di loro la massa materiale con quella antimateriale, il processo inverso, che è il logaritmo decimale della potenza dieci alla sei, evidenzia il sei come tutti i versi percorribili nella terna cartesiana, ossia come i sei vincoli geometrici dello spazio ortogonale. E l'evidenzia così per sempre. Ma si tratta di un sei che, ripeto, è l'indice di dieci alla sei osservato nel suo logaritmo decimale che riduce la potenza dieci alla sei, che esprime il volume complesso della massa, solo nell'indice sei che esprime i sei versi e i sei vincoli dello spazio ortogonale.